Una volta ero a una riunione L'oratore che arrivò al pulpito non aveva mai visto una congregazione del genere Guardò la congregazione e disse buonasera e andò via Non vorrei dover fare la stessa cosa oggi Siete bellissime da guardare Penso alla mia gioventù E alle insegnanti visitatrici che facevano visita alla nostra casa Mia madre metteva insieme Gli appunti della società di soccorso insieme a mio padre Sono stato vescovo di un rione di oltre mille persone Con quasi cento vedove Ricordo quanto mia moglie fosse dolce nell'aiutarmi E nel sostenermi quando facevo visita a queste sorelle Tutte queste sorelle mi facevano Erano contente quando andavo a visitarle E dicevano ecco Tommy Tutte mi hanno chiesto di parlare al loro funerale E ho parlato al funerale di tutte queste 84 sorelle A volte anche tre funerali in un giorno Il mio cuore è pieno di amore Stasera Ma sento anche di gioire Abbiamo ascoltato una splendida musica e messaggi ispirati Lo Spirito del Signore è qui Prego di avere la sua ispirazione Mentre esprimo alcuni dei miei pensieri e sentimenti Inizierò con un breve aneddoto Che illustra che cosa voglio dire Una giovane coppia, Lisa e John Si trasferì in un nuovo quartiere Una mattina mentre facevano colazione Lisa guardò fuori dalla finestra E osservò la sua vicina mentre stendeva il bucato Quei panni non sono puliti Esclamò Lisa La nostra vicina non sa fare il bucato John guardò ma rimase in silenzio Ogni volta che la sua vicina stendeva il bucato Lisa faceva gli stessi commenti Alcune settimane dopo Dando un'occhiata fuori dalla finestra Lisa fu sorpresa di vedere degli abiti ben puliti Che erano stesi nel giardino della sua vicina Disse al marito Guarda John, finalmente hai imparato a lavare nel modo giusto Mi chiedo come avrà fatto John rispose Cara, ho io la risposta Ti interesserà sapere che stamattina Mi sono alzato presto E ho lavato le nostre finestre Stasera vorrei esprimervi alcuni pensieri riguardo a come ci consideriamo a vicenda Stiamo guardando attraverso una finestra che ha bisogno di pulizia? Stiamo dando dei giudizi senza conoscere tutti i fatti? Che cosa vediamo quando guardiamo gli altri? Che giudizi diamo di loro? Il Salvatore disse Non giudicate Poi continuò Perché guardi tu il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello Mentre non iscorgi la trave che ne è l'occhio tuo? Oppure, per parafrasare Perché guardi tu ciò che ritieni essere biancheria macchiata nella casa della tua vicina Ma non iscorgi la finestra sporca che è nella casa tua? Nessuno di noi è perfetto Non conosco nessuno che professi di esserlo Eppure, per qualche ragione Malgrado le nostre imperfezioni Abbiamo la tendenza a far notare quelle degli altri Esprimiamo dei giudizi sulle loro azioni o la loro inoperosità Davvero non c'è alcun modo in cui possiamo conoscere il cuore Le intenzioni o le circostanze di qualcuno Che può dire o fare cose che reputiamo di dover criticare Di conseguenza, il comandamento Non giudicate 47 anni fa, alla conferenza generale Fu chiamato a servire nel quorum dei dodici apostoli A quel tempo Sembra quasi un'eternità A quel tempo servivo in uno dei comitati generali del sacerdozio della Chiesa Quindi, prima che il mio nome fosse presentato Mi sedetti insieme agli altri membri di quel comitato del sacerdozio Come ci si aspettava che facessi Mia moglie però non aveva idea di dove andare Nessuno con cui sedersi E non riuscì a trovare un posto nel tabernacolo Una nostra cara amica Che faceva parte di uno dei comitati generali delle organizzazioni ausiliare Che era seduta nella zona di vita ai membri del comitato Chiese alla sorella Monson di sedersi vicino a lei Questa donna non sapeva nulla della mia chiamata Che sarebbe stata annunciata a breve Ma riconobbe la sorella Monson La sua costernazione le offrì gentilmente un posto La mia cara moglie fu sollevata e grata per questo gesto premuroso Mentre prendeva posto, tuttavia, utì uno dei membri del Consiglio Commentare ad alta voce con chi le era vicino La seccatura che un altro membro del comitato Avesse avuto l'insolenza di invitare un estraneo in quell'area Riservata solo a loro Non c'erano scuse per il suo comportamento scortese A prescindere da chi potesse essere invitato a prendere posto lì Tuttavia, posso solo immaginare come si sia sentita quella donna Quando venne a sapere che l'intrusa era la moglie del nuovo apostolo Non serviamo rancore per questa sorella Non solo siamo inclini a giudicare le azioni e le parole degli altri Ma molti tra noi giudicano le apparenze L'abbigliamento, l'acconciatura, la taglia E l'elenco potrebbe andare avanti Un eccellente racconto sul giudicare secondo le apparenze Fu pubblicato molti anni fa su una rivista a tiratura nazionale È una storia vera Una che potresti aver sentito Ma che vale la pena di ripetere Una donna di nome Mary Bartels Viveva proprio di fronte all'entrata di una clinica ospedaliera La sua famiglia viveva al piano terra E affittava le stanze al piano di sopra E ai pazienti dell'ambulatorio Una sera Un uomo anziano davvero brutto Giunse alla sua porta per chiedere se avevano posto per la notte Era curvo e grinzoso Il suo viso era sudato, rosso e infiammato Disse di essere alla ricerca di una stanza da mezzogiorno Ma senza successo Credo che sia per la mia faccia Disse So che è terribile Ma il mio dottore dice che potrebbe migliorare con altri trattamenti Aggiunse che sarebbe stato felice di dormire sulla sedia a dondolo del portico Mentre parlava con lui Mary si rese conto Che quel piccolo uomo anziano Aveva un grande cuore Che era rinchiuso in un piccolo corpo Anche se le sue camere erano tutte occupate Gli disse di aspettare sulla sedia Finché non gli avesse trovato un luogo in cui riposare Quando fu il momento di andare a dormire Il marito di Mary preparò un lettino da campeggio Quando andò a controllare al mattino Ella trovò la biancheria ben piegata E l'uomo che era fuori sul portico Rifiutò la colazione Ma subito prima di andare a prendere l'autobus Chiese se poteva tornare per il prossimo trattamento Non vi darò alcun disturbo promise Posso dormire bene su una sedia Mary lo rassicurò che poteva tornare Per parecchi anni l'uomo anziano andò a fare i suoi trattamenti E state a casa di Mary Poiché era un pescatore Portava sempre in dono frutti di mare o verdure del suo orto Altre volte invece inviava dei pacchi postali Quando Mary riceveva questi doni premurosi Spesso pensava al commento della sua vicina Dopo che quel vecchio sfigurato e curvo Aveva lasciato la casa di Mary quel primo mattino Hai ospitato quell'uomo dall'aspetto orribile la scorsa notte? Io l'ho mandato via Puoi perdere dei clienti se ospiti gente del genere Mary sapeva che forse una o due volte Avevano perso dei clienti Ma pensava Oh, se solo l'avessero conosciuto Forse la loro malattia sarebbe stata più facile da sopportare Dopo la morte dell'uomo Una volta Mary si trovò con un'amica che aveva una serra Mentre guardava ai suoi fiori Mary notò un bellissimo crisantemo dorato Ma si chiese perché stesse crescendo in un secchio ammaccato Vecchio e arrugginito L'amica spiegò Ho finito tutti i vasi e sapendo quanto sarebbe stato bello questo fiore Ho pensato che non avrebbe avuto importanza se fosse nato in questo vecchio secchio È solo per un po' Finché non potrò metterlo in giardino Mary sorrise Mentre immaginava questa scena in cielo Eccone una particolarmente bella Può aver detto Dio quando fu il turno dell'anima del piccolo uomo anziano Non avrà importanza se nascerà in questo piccolo corpo deforme Ma quello accade tanto tempo fa Nel giardino di Dio Quanto sarà alta e straordinaria Quest'anima deliziosa Le apparenze Possono ingannare Sminuendo una persona Il Salvatore Ammoni Non giudicate secondo l'apparenza La componente di un'organizzazione femminile Una volta si lamentò quando una certa donna Fu scelta a rappresentare l'organizzazione Non l'aveva mai incontrata Ma ne aveva visto una fotografia E non le era piaciuta Considerandola sovrappeso La donna commentò Delle migliaia di donne di questa organizzazione Di certo si sarebbe potuta scegliere una rappresentante migliore È vero La donna scelta non era magra come una modella Ma coloro che conobero lei e le sue qualità Videro molto di più di quanto era visibile nella fotografia La fotografia mostrava Che lei aveva un sorriso amichevole E un'espressione fiduciosa Ciò che la fotografia non mostrava Era che era un'amica leale E compassionevole Una donna intelligente Che amava il Signore E che amava e serviva i Suoi figli Non mostrava Che faceva volontariato nella comunità E che era Una vicina premurosa e attenta In breve La fotografia non mostrava Chi era realmente E quindi chiedo Se l'atteggiamento Le azioni e le inclinazioni spirituali Si riflettessero nell'aspetto fisico Il volto della donna che si lamentò Sarebbe così grazioso Come quello della donna che criticò Mie care sorelle Ciascuna di voi è unica Siete diverse l'una dall'altra In molti modi differenti Vi sono tra voi donne che sono sposate Alcune di voi stanno a casa con i figli Mentre altre lavorano fuori casa Alcune hanno figli che sono ormai grandi E alcune sono sposate Ma non hanno figli Altre sono divorziate Altre vedove Molte sono donne sole Alcune hanno titoli di studio Altre no Alcune possono permettersi Di seguire l'ultima moda E altre sono abbastanza fortunate D'avere un abito adatto alla domenica Le differenze sono quasi infinite Queste differenze Sono una tentazione a giudicarsi a vicenda Madre Teresa Una suora cattolica Che lavorò tra i poveri in India Quasi tutta la sua vita Proferì questa verità Se giudichi le persone Non hai tempo per amarle Il Salvatore ha munito Questo è il mio comandamento Che vi amiate gli uni gli altri Come io Ho amato voi Vi chiedo Possiamo amarci Come ha comandato il Salvatore Se ci giudichiamo vicendevolmente E rispondo con Madre Teresa No Non possiamo L'Apostolo Giacomo insegnò Se uno pensa ad essere religioso E non tiene a freno la sua lingua Ma seduce il cuor suo La religione di quel tale è vana Mi è sempre piaciuto il vostro motto Della società di soccorso La carità Non verrà mai meno Che cos'è la verità La carità Il profeta Mormon ci insegna Che la carità è il puro amore di Cristo Nel suo messaggio da Dio ai Lamaniti Moroni dichiarò A meno che non abbiate carità Non potete in alcun modo Essere salvati nel regno di Dio Io considero la carità O il puro amore di Cristo L'opposto della critica e del giudizio Parlando di carità In questo momento Non mi viene in mente Il sollievo delle sofferenze Quando impartiamo le nostre sostanze Questo aspetto è ovviamente Necessario e giusto Questa sera però Ho in mente la carità Che si manifesta Quando siamo tolleranti Verso gli altri E clementi per le loro azioni Il tipo di carità che perdona Il tipo di carità Che è paziente Ho in mente la carità Che ci spinge ad essere comprensivi Compassionevoli E misericordiosi Non solo nei momenti di malattia Afflizione e difficoltà Ma anche in tempo di debolezza O errore da parte degli altri C'è grande necessità della carità Che dà attenzione a coloro Che non vengono notati Speranza a coloro Che sono scoraggiati Aiuto a coloro che sono afflitti La vera carità È amore in azione Il bisogno di carità è ovunque È necessaria la carità Che rifiuta di trovare soddisfazione Nell'ascoltare o ne ripetere Le sfortune degli altri Se non per dare beneficio Alla persona meno fortunata Un insegnante e politico americano Horace Mann Una volta disse Provare pietà Per chi è in difficoltà e umano Portare sollievo È divino Carità È avere pazienza Verso qualcuno Che ci ha deluso È resistere all'impulso Di offendersi facilmente È accettare le debolezze E le imperfezioni È accettare le persone Per come sono veramente È guardare al di là Dell'aspetto fisico Quei attributi Che non si offuscano col tempo È resistere all'impulso Di classificare gli altri La carità Quel puro amore di Cristo È presente Quando un gruppo Di giovani donne Di un rione Di membri non sposati Percorre centinaia di chilometri Per partecipare Al funerale della madre Di una delle sorelle Della società di soccorso La carità è manifesta Quando delle devote E insegnanti visitatrici Tornano mese dopo mese Anno dopo anno Dalla stessa sorella Disinteressata Sei piuttosto critica È manifesta Quando ci si ricorda Di un'anziana vedova Che viene accompagnata Alle funzioni del rione E alle attività Della società di soccorso Si sente Quando una sorella Che siede da sola Nella società di soccorsa Riceve l'invito Vieni a sederti vicino a noi In cento piccoli modi Ciascuna di voi Indossa Il mantello Della carità La vita non è perfetta Per nessuno di noi Invece di giudicare E criticare gli altri Possiamo avere Il puro amore di Cristo Per gli altri viaggiatori In questo viaggio Che è la vita Ricordiamo che ognuno di noi Sta facendo del suo meglio Per affrontare Le difficoltà che incontra E noi tutti Potremmo sforzarci Di fare del nostro meglio Per offrire aiuto La carità è stata definita Il più alto Più nobile Più forte genere d'amore Il puro amore di Cristo Ecco lei Che sarà trovata Pervasa di essa All'ultimo giorno Tutto andrà bene per lei La carità Non verrà mai meno Questo moto Della società di soccorso Da lungo tempo Questa verità senza tempo Vi guidi in tutto ciò che fate Possa permeare ogni anima E trovare espressione In tutti i vostri pensieri E atti Esprimo il mio affetto per voi Mie sorelle E prego che le benedizioni del cielo Possano sempre essere vostre Nel nome Di Gesù Cristo Amen Grazie a tutti i vostri pensieri Grazie a tutti i vostri pensieri